Buon pomeriggio, mi è appena arrivata una richiesta, insomma una domanda in chat dove mi viene chiesto se la mattonella in cemento, insomma la classica cementina, viene prodotta ancora a mano e da dove è nato questo prodotto? Fondamentalmente la domanda era questa, diciamo che il prodotto in cemento fu una mattonella, fu un prodotto rivoluzionario si realizzava a mano, con l'ausilio diciamo delle mani, ancora oggi si usano le mani, quindi in quello siamo rimasti uguali E' un prodotto che nasce come rivoluzione perché bisogna pensare che a partire dalla metà del XIX secolo, parallelamente all'ascesa e alla diffusione del nuovo legante cementizio in Europa, nel Centro America e in Sud America, venne messa a punto una tecnica rivoluzionaria per la realizzazione di piastrelle da pavimento Questa tecnica era sì rivoluzionaria perché consentiva di produrre mattonelle in serie, tra virgolette serie, senza ricorrere a cottura ma addirittura semplicemente attraverso un'operazione di pressatura Quindi c'era un grande vantaggio produttivo e la possibilità di ottenere risultati cromatici e decorativi di grande qualità Ecco perché si sviluppò maggiormente la produzione di piastrelle in cemento Non bisognava cuocerle, se ne producevano di più, erano più forti e bastava solamente pressarle Infatti le mattonelle in cemento non vengono cotte, non erano cotte, non saranno mai cotte alla fine, voglio dire Ma la loro durezza nasceva unicamente dalla combinazione di uno strato finissimo di cemento Portland senza idrato e di uno strato più grosso, l'anno di sabbia e cemento sui quali si fissa quindi lo strato poi decorato Ecco perché è un prodotto rivoluzionario Ancora oggi si realizza a mano L'unico elemento che è cambiato è la pressa Queste presse che servono a compattare i tre strati mentre all'epoca erano delle presse idrauliche Infatti perché si chiamano pavimenti idraulici? Sia perché avevamo l'ausilio di presse idrauliche Sia perché questa pressa idraulica andava a compattare un legante idraulico Quindi bastava, era una magia Era quella magia che ancora oggi è una magia dove la polvere e l'acqua fanno la durezza di un prodotto Questo ecco perché nasce il prodotto in cemento Il pavimento idraulico, così come viene chiamato ancora oggi in alcuni paesi Grazie